Carlo Parisi è sempre stato appassionato di pallavolo, sport che ha praticato sin da ragazzo, anche se i risultati più importanti li ha ottenuti in panchina. Nato a Catanzaro, si è presto trasferito a Messina. La prima squadra gli viene affidata nel 93-94, due stagioni per fare esperienza e poi la conquista della 1. Promozioni ottenute anche a Chieri e Bustorsizio. In provincia di Varese la sua consacrazione. Nel 2012 mette a segno un fantastico triplete. La Iama di Bustorsizio, squadra di pallavolo femminile, vince in Europa la sua seconda Coppa CEV, alza al cielo la Coppa Italia e poi batte Villa Cortese nelle finali per lo Scudetto. Calabrese, cresciuto a Messina, trapiantato nel nord Italia, Parisi non rinuncia ai sapori della sua terra. A me piace il pesce, per cui io tutto quello che posso cucinare con il pesce lo faccio. E poi della mia terra in particolare a Catanzaro c'è il famoso Morsello. Per chi conosce questa pietanza che sono interiora, che vengono cucinate con un sugo, con molto piccanti. Io ho trovato un sito che nel giro di 24 ore me lo fa arrivare e io dalla Salsiccia Calabrese al Morsello Calabrese e ad altri tipici piatti, tipici della mia città proprio, io a volte faccio questo ordine. Questo ordine.